Siamo a Roma e occupiamoci ora dell'ILVA, il bando di gara per l'azienda. Sarà pubblicato all'inizio della prossima settimana, ad annunciarlo il Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, che non esclude che possa prospettarsi anche un'accordata italiana interessata all'ILVA. Sentiamo da Ancona il Segretario Generale della FIM CISL, Marco Bentivogli, benvenuto a Rai News 24. Buongiorno, buongiorno. Bentivogli, allora si ragiona non poco di questa accordata italiana. Da chi potrebbe essere formata? Chi può essere interessato allo stato attuale all'ILVA nel nostro Paese? Ma questo non è ancora chiaro. L'importante è che si cambi passo rispetto alle varie fantomatiche accordate viste fino adesso, in cui vi erano sostanzialmente soggetti industriali e finanziari non interessati all'ILVA, ma interessati a se stessi e nella ricerca di trovare qualcuno che mettesse sostanzialmente i soldi per poter far ripartire l'ILVA. Serve invece sgombrare il campo da quest'anno di finta nazionalizzazione, su cui noi come FIM in modo isolato e solitario avevamo detto che era non solo inutile e dannosa, e serve riportare l'ILVA a un soggetto industriale siderurgico, che sia plurale, con più soggetti può essere utile, può essere importante. Quello che è utile è che non si perda più tempo. Su ILVA non si è fatto sul serio, si sono cambiati troppe volte piani e oggi invece è il momento di recuperare tutto il tempo perduto sull'ambientalizzazione e soprattutto sul rilancio industriale e la riqualificazione. Senta Bentivoghi, lei dice che si è perso troppo tempo su ILVA. Una delle ipotesi per il futuro dell'azienda, che dipende naturalmente anche dai soggetti interessati a rilevarla, è quella dello spezzatino. Rispetto a questa prospettiva, qual è la posizione vostra del sindacato? Ma lo spezzatino risponde alle necessità di altri soggetti siderurgici che vogliono la scomparsa dell'ILVA. Questo deve essere chiaro. Un impianto come quello di Taranto, che è il siderurgico più grosso d'Europa, funziona solo sopra le 8 milioni di tonnellate. Sotto quella soglia significa andare via via a chiudere quello stabilimento. È chiaro che chi ha questi interessi a fare lo spezzatino vuole prendersi quote di mercato e aspetti necessari alla produzione dell'ILVA che rischiano di segnarne definitivamente la fine. Per questo il governo deve sgombrare il campo dentro queste potenziali cordate da soggetti speculatori, anche industriali, che stranamente lo scorso anno, è una cosa alquanto anomala, hanno brindato, contrariamente a quello che dicevamo noi, alle ipotesi di fantomatica nazionalizzazione. È una cosa singolare. Generalmente un soggetto siderurgico quando arriva lo Stato nel suo settore chiama la Commissione Europea per gli aiuti di Stato. Invece molti e troppi siderurgici italiani brindavano a questo intervento anomalo pubblico nel mercato. Per cui è ora di riprendere in mano la situazione in maniera molto più seria. Bentivogli, è evidente nelle sue parole la preoccupazione per i livelli occupazionali. non potrebbe essere diversamente nel futuro dell'Ilva. Si è parlato, e molto, nei mesi scorsi, di un interessamento non soltanto di gruppi italiani, attori italiani, come Marcegaglia, anche di interessamento da parte di Arcelor Mittal, un gigante del settore. Rispetto a questo e al problema della tutela dell'occupazione, secondo lei che cosa dovrebbe fare il governo? Il governo deve assolutamente garantire due aspetti fondamentali. Il piano di ambientalizzazione, che oggi è scritto in modo molto chiaro nell'AIA, e la difesa dell'occupazione. Non sono solo i 12 mila di Taranto, di Genova, di Novi Ligure, ma c'è un'occupazione legata allo stabilimento di Taranto, che è uno stabilimento di carattere mondiale. A livello di economia industriale, lo stabilimento di Taranto rappresenta molto di più che un normale stabilimento siderurgico. Per cui difendere la sua prospettiva, è chiaro, in una prospettiva di totale ecosostenibilità, è fondamentale per la sovranità industriale di questo Paese. E questo a chiunque arrivi, e bisogna fare presto, perché il mercato dell'acciaio si sta spostando verso altri mercati rispetto a quello europeo, bisogna fare assolutamente presto, sennò il rischio sarà che in futuro non ci saranno soggetti industriali disponibili a rilanciare l'ILVA. Beh, ti voglio un'ultimissima domanda. In sintesi, lei al momento è ottimista sul futuro di ILVA, intesa come soggetto che conosciamo ad oggi, dunque mantenendone l'integrità o no? Generalmente sono ottimista, ma l'ottimismo deve essere corredato da segni positivi che in questi ultimi due anni non si sono visti. Da quando è stato su spinte assolutamente discutibili sostituito il commissario Bondi, i passi sono stati fatti tutti in direzioni sbagliate. Bisogna ritornare probabilmente proprio a quel piano industriale che si giudicava costoso, ma in realtà per quello che ci dice anche lo Svimez in questi giorni in realtà tutto quello che è accaduto dopo il piano di Bondi è costato molto di più che il piano di Bondi stesso, per cui forse bisognerebbe corredare appunto l'ottimismo di passi positivi e costruttivi in senso industriale ovviamente. Grazie a Marco Bentivogli della CISL, seguiremo naturalmente anche nei prossimi giorni lo sviluppo della vertenza del capitolo ILVA. Veniamo alla politica.